È partito un percorso di formazione imprenditoriale che coinvolge due classi quarte del centro studi Volta di Udine. Attraverso la costituzione di due imprese cooperative simulate, gli studenti impareranno a diventare organizzatori di eventi. Il progetto ha visto il coinvolgimento di un ampio partenariato mentre l'attività di simulazione di impresa è promossa dalle formatrici dell'Ufficio Educazione Cooperativa di Conf Cooperative. A marzo il progetto si concluderà con un flash mob che animerà il centro di Udine.